Buongiorno Ciao, la colpa è di Antonio Chi è Antonio? Colpa sua Si deve sposare il 13 settembre Cioè il video è mio, pago io E poi ci sposa più Davvero non ti sposi più? No, è indeciso Tu come ti chiami? Io Daniele Ciri Monte Dammer 5? Olè, io sono Andrea Mi raccomando, sorridimi Anche se sto brutto Non sono una bella donna E guardami soprattutto Così ti faccio delle belle foto C'ho gli occhi chiusi, dimmelo Ok Mamma, scusami Ma no, tranquillo, è bellissimo Non ti preoccupare Divertiti e goditi il lancio Mi ascoltare il Vigile del Fuoco Ah, sei pure il Vigile del Fuoco? Ok, perfetto Facciamo anche ariniente Perfetto Anche il speleolo e poi tanto Ale Anche il Vigile del Fuoco Anche il Vigile del Fuoco Anche il Vigile del Fuoco Existit Provo C'è il Vigile del Fuoco Ok 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 Oh Ah 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 Un com'era? ti è piaciuto? mamma mia! porca miseria! bene bene! vai sei libero! perca miseria! se non ti piaceva ne facevi un altro gratis! subito! ormai ti è piaciuto! bella! bella! ma come ti dicevi di fare le cose? aiutate a colombo! poi antonio! non puoi andare! stavo bene!